L'anomalia della settimana con il doppio turno non aiuta perché ci aspettano due trasferte, questo non ci dà modo e tempo di lavorare in palestra e allenarci per ripristinare una condizione che anche la partita di domenica ha palesato essere approssimativa per quanto apprezzabile sforzo possa esserci stato, era chiaro e evidente che non avessimo le energie consuete per giocare 40 minuti a quel livello di intensità. Abbiamo recuperato in allenamento Simone Zanotti che è sicuramente un'addizione importante ma ripristinare la condizione è qualcosa che dovremo rimandare alla settimana successiva, sarà determinante l'approccio sotto il profilo fisico e mentale ma sarà altrettanto determinante la capacità di recupero da sforzi di questo tipo. Io penso che l'ultima gara a Casalinga con Milano porti in dote molto in termini di euforia, di consapevolezza ma al tempo stesso tolga in termini di condizione perché offrire una prestazione del genere in un momento di tale difficoltà inevitabilmente determina anche uno, spreme ogni giocatore più di quanto fosse lescito immaginare. Le insidie sono legate appunto allo stato di forma dei nostri avversari, all'alto rendimento che stanno garantendo soprattutto nell'ultimo periodo e in special modo nelle gare casalinghe dove hanno avuto vittorie larghe, brillanti, con momenti di esaltazione cestistica che noi dovremmo essere bravi a contenere, non una partita semplice, né nella lettura né nella sua interpretazione. Quindi per noi sarà determinante fare delle valutazioni al termine di questa doppia sfida di campionato per capire quale capacità abbiamo veramente di metabolizzare sforzo e informazioni. È la prima volta dall'inizio dell'anno che giochiamo gare così ravvicinate, quindi è un buon test per tutti ma dal quale è importante raccogliere indicazioni ma è altrettanto importante raccogliere vittorie. Quindi non sarà semplice, sono tante le insidie. Basta, come detto, toccare il cammino che Brescia ha avuto nelle ultime giornate, soprattutto nelle gare casalinghe, il fatto che abbiano due dei top quattro realizzatori del campionato, cioè questo già dà un'indicazione importante, il miglior realizzatore e il quarto miglior realizzatore del campionato, che siano secondi nel campionato come numero di tiri da tre punti. Quindi ci sono tanti aspetti che fanno capire le difficoltà che incontreremo. Una squadra ben allestita che adesso sta trovando anche quell'identità e quella coesione che forse ancora non avevano saputo trovare a inizio stagione, ma che adesso gli permette di giocare un basket molto piacevole ed estremamente efficace.